ritorniamo in studio per la terza parte della prima puntata di calcio vuoi in questo frangente ci avvaliamo anche dei fermi immagini che alessio ci sta proponendo beh ce li può commentare Gianni grazie Gigi che assumi le vesti di presentatore per qualche istante questo fa vedere un po' quello che ho messo prima sulla grafica questa è l'azione del secondo gol e ti fa vedere quella è la posizione di Peralta con l'ovale che comunque arriva un po' in ritardo e poi il 2 contro 1 e il 3 contro 2 cioè lì c'è sempre stata inferiorità da quella parte proprio tra Moni e il terzino e Defendi che andava sempre vedi si trova a fare un 2 contro 1 quindi non sa sostanzialmente cosa fare gli viene chiamato il passaggio a Bagli e poi ha fatto un bel movimento questo però non è il gol del Brescia questo è dove nasce l'azione del secondo gol del rigore invece ecco questo qui lo faccio vedere perché sono due azioni molto simili però per far vedere proprio il discorso di uno degli aspetti in cui soffriamo molto cioè sui sulle uscite sui tiri da fuori aria noi abbiamo preso tanti gol l'anno scorso allora qui guardate questo è il tiro di Valumbo se non vado che poi viene parato da Joronen sulla sua destra vedi come sono corti in uscita i due giocatori del Brescia soprattutto sono in due e hanno una distanza di quanto sarà lì? 2 metri? una cosa del genere certo e già stanno uscendo guarda sul terzo fotogramma a sensazione sostanzialmente guarda quanto stiamo più lontano noi in uscita no ma l'anno scorso stiamo sottolineando questo l'abbiamo preso tantissimi di gol ecco sì ce l'abbiamo preso anche con l'Avellino in Coppa Italia però secondo me Gianni perché l'Avellino gioca con quattro giocatori difensivi sì però ecco noi abbiamo delle difficoltà su cui penso il mister stia lavorando perché qui si vede un'azione praticamente uguale la distanza in cui calcia il giocatore del Brescia è per giù quella di Valumbo e noi l'uscita vedi è molto più ecco guarda fa bene Alessio a farlo vedere così perché la distanza è grossomodo la stessa allora nel primo caso i due del Brescia ci stanno a due metri mentre calcia Valumbo nel secondo adesso lo carica Alessio vedi ci sono almeno la distanza almeno è doppia sono 4-5 metri ci eravamo un po' sbilanciati via sì però noi ce l'abbiamo tantissimi anche l'anno scorso sulle uscite, sulle seconde palle abbiamo preso un sacco di gol tantissimi tutto qui va bene passiamo a questo punto alle pagelle dei singoli protagonisti della gara di Ternana a Brescia naturalmente noi ci occupiamo come al solito dei nostri rosso-verdi certo allora iniziamo quindi con Anthony Gianna Rilli Gigi 7 7 anche per me 6 e mezzo per me inspiegabilmente è messo in discussione per tutta l'estate perché non ha fatto le presenti in serie B tu pensi che è sciocchezza benissimo grande sicurezza grande prova di personalità no ci vuole un altro cortico un po' dopo ne parliamo ce ne parliamo dopo con la parte fa una parata strepitosa su un po' di una palla che viene giudicata in quel gioco benissimo l'anno scorso col Bari ci ha salvato la pelle sì sì molto va bene va bene passiamo a Marino Defendi che dà 5 5 anche per me ha sofferto troppo adesso poi l'altro anno scorso insomma bisogna riconoscere che Marino ha fatto un gran campionato peraltro lo poteva aiutare un po' di più poteva essere aiutato di più da Poglietti poteva essere aiutato di più da Poglietti però è stato saltato uomo contro uomo più troppe volte assolutamente sì va bene Mattia Boben 5 e mezzo meglio il secondo tempo meglio il secondo tempo ricordiamo un paio di chiusure nel secondo tempo ha sofferto moltissimo però secondo me c'era un po' di tempo sì è un buon attaccante è un ottimo attaccante Ivan Kondek 5 e mezzo 5 e mezzo però ma sai che per far titolare in Serie B ci vuole un altro po' un po' più di cattiveria ci vuole perché non vige un contrasto no ma Kondek è un ottimo giocatore insomma l'anno scorso l'abbiamo visto però forse sa giocare troppo a calcio per far difensore poi deve trovare più il contatto con l'avversario forse anche un po' di confidenza con questa categoria sempre pallone si tratta sempre pallone l'avversario però l'avversario si è un po' di caratura e allora se l'avversario si è un po' di caratura e si gioca un attimo il cercancio è semplice sta sempre un pallone che pesa poco in quella maniera Agnello Salsano ragazzi 5 ma 5 e mezzo secondo me 5 più io il peggiore della difesa è stato defendi stavolta non è che ha giocato male Salsano dalla parte su però si vede che è un pesce fuor d'acqua da quella parte sicuramente i maggiori pericoli sono arrivati dalla parte opposta questo bisogna sottolinearlo Ghirinchelli subentrato 6 6 anche per me quanto ha giocato però? beh ha giocato dal tredicesimo si si mi sembrano quasi mezz'oretta vabbè 6 allora si oh Agazzi 5 e mezzo 5 e mezzo avrebbe meritato 6 lì fa quell'ingegno comunque l'ingegno se no non aveva giocato proprio oscenamente 5 e mezzo quindi siamo sul 6 meno via complessivo Proietti uguale Mattia Proietti 5 e mezzo 5 e mezzo 5 e mezzo 5 e mezzo questa volta ha toppato ha toppato la partita è stato un po' travolto dal centrocampo del Brescia che forse era anche in superità numero non lo so comunque stavolta non era il solito un po' non si poteva giocare a calcio però questo vale per tutte e due ok subentrato poi Fabrizio Paghera per me 6 5 e mezzo 6 però lo meritava non è andato malissimo no ci ha messo un po' di verde però Palumbo per me Palumbo migliore in campo della Ternana scomputando poi gli annarili per me 6 e mezzo 6 e mezzo 6 ha fatto bene entrato bene però la partita era per lo so che finita beh ha fatto diversi strappi comunque sì sì no tutto quello ci ha messo ci ha messo un po' più dinamismo vitalità c'è la data gli attributi non lo volevo di peggio ma diciamo gli attributi arriviamo a Cesar Falletti 6 6 e mezzo 5 e mezzo per me 6 perché comunque in iniziative soprattutto quella per esempio per l'occasione di Donnarumma l'ha creato dopo però si è spento però nel momento in cui si spegne Falletti spegne la squadra quindi secondo me vabbè comunque certo non è stato un Falletti trascendente si è spento poi la posizione in campo non l'ha trovata bene ieri secondo me comunque non è stato facilitato anche lui del campo no assolutamente assolutamente penalizzato direi per carità ripeto vale per tutte e due però beh per un giocatore dalla tecnica come la sua Falletti in partite come questa secondo me deve cercare più la giocata perché è lui il giocatore che deve dare deve determinare come si dice nel calcio quindi deve avere più coraggio deve cercare di più il tiro deve cercare di più il dribbling che poi l'ha ricercato pure a volte si è un po' nascosto quindi l'insufficienza a sto giro poi forse c'è un po' di tutti insomma quanto io come tutti se lo stimi eh certo infinita Federico Furlano 5 e mezzo 5 e mezzo stavolta ha giurato male benissimo a Bologna benissimo a Bologna stavolta poco è vero Diego Peralta per me 5 e mezzo 5 e mezzo 5 e più 5 e mezzo era partito bene poi si è un po' spento ma non è insomma c'era anche un avversario di un certo livello questo va a sottolineare oh Alfredo Donnarumma 5 e mezzo 5 e mezzo forse anche 5 forse anche 5 non ha giocato una gran partita in più pesa l'errore pesa l'errore secondo me era attenuante però che comunque ha pochi giorni che sta con una squadra ma poi il gol ci ha avuto un'occasione ci ha avuto una esatto 5 e mezzo penso sia il giusto Stefano Pettinari per me sei più sei sia lui che Mazzocchi dai sì sei entrambi niente di che però no però Mazzocchi l'ho visto fare 3 o 4 rincorse su sulle prime giocare e Pettinari aggiungerei anche un paio di di giocati interessanti a coprire la palla però neanche lui è stato capace a prendere il rigore no vabbè però Pettinari fa quell'azione sotto la curva nord con un doppio passo molto bella sì 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 assolutamente molto bene ma si vede che sta un po' più avanti anche nei meccanismi di squadra ci siamo scordati mister Lucarelli ragazzi 5 e mezzo Lucarelli per me e sei anche per me beh di stima va bene però questa partita è 5 e mezzo perché sbaglia i terzini non è una sciocchezza come impostazione tattica ha fatto bene a mantenere la sua ho condiviso anche le dichiarazioni poste partita anche sul rigore ha fatto bene a sottolinearlo però la terzina ha sbagliato sì però difendi perché in realtà io non so che Ringhelli ma insomma Celli è un terzino di ruolo se giochi col Brescia che presumibilmente non è una squadra che dominerai secondo me è meglio giocare un terzino di ruolo veloce bravo in marcatura come Celli piuttosto che come Salzano che come terzino adattato poi Salzano avremo come posso dire eterna stima per il gol che ha fatto col Perugia ha fatti anche altri importanti l'anno scorso però non può giocare terzino o perlomeno può giocare terzino se fai una partita alla Calibaldina che attacchi che ti serve il giocatore che va sul fondo ma siccome con il Brescia sapevamo che non sarebbe stato semplice e poi non l'ha tolto non l'ha tolto in tempo comunque non lo so se vuoi dare risultati però una cosa la devo dire vai vai no voglio che è poi la cosa più importante che voglio dire oggi per me è presto per dare giudizio assolutamente perché ci sono tantissimi attenuanti cioè la condizione atletica è ancora secondo me stiamo molto indietro dagli allenamenti che ho visto io prima di fine agosto o metà settembre non arriveremo al 100% era la prima partita in Serie B ci stavano dei debuttanti avevamo il campo in quelle condizioni metteteci che la Ternana Lucarelli parte sempre un po' come un diesel mettiamoci anche questo che la squadra lo staff avrà valutato il fatto che dopo la seconda di campionato arriva la sosta quindi non è tanto importante stare al top adesso quanto arrivarci verso la fine di settembre no perché in effetti qualcuno già balla no no stavo dicendo volevo arrivare a questo cioè la cosa più deleteria per l'ambiente sarebbe adesso quella di dire che è tutto sbagliato bisogna cambiare i giocatori ma no ha voglia cominciano già però Gianni tu sai che di calcio come di politica ne parlano tutti non si parli di pallone giusto? no 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 però dico parlano tutti quindi poi ognuno dice quello che vuole però non è che tutti possono parlarne con quindi lasciamo la Ternana come rosa secondo me e non è detto che sarà questa perché potrebbe arrivare è fra le prime dieci poi dopo magari va male e non arriverà fra le dieci però non è una squadra a buttare via è una squadra no che non è adatta non diciamo sciocchezza è vero che la Serie B quest'anno è un ottimo campionato ma la Ternana che ha vinto a Bologna non è diventata sommata tutti in zio è una squadra che stavolta ha un po' toppato è stata danneggiata a Reggio Calabria è una partita difficile ma è cambiato il lungo sono sicuro che si rifarà col Pisa certo però deve giocare su un altro campo infatti l'errore più grosso sarebbe andare a pressa ai risultati come non ci dobbiamo esaltare con il Bologna non ci dobbiamo deprimere per una sconfitta contro una delle squadre poi candidata a recitare un ruolo da protagonista nelle prime no ma dicevo con poche esce la prima partita allora che dovevamo dire che andavamo in Serie A e invece poi dopo si è visto perché? per quale motivo? ma si sapeva però perché hai tirato fuori no l'ho tirato fuori perché la prima partita non conta e anzi e anzi quelli che all'epoca parlavano di calcio ma insomma ripeto io dall'alto della mia modestia tutti ne dovrebbero parlare abbiamo detto che nonostante quella partita la Ternana con quella rossa sarebbe retrocessa a passo di fanfare infatti quello è accaduto no ma ti dirò intanto il dito nella piaga ogni tanto va girato in quella famosa partita di Ternana Empoli 1 a 1 io sentì la piazza che acclamava a parte Puglione ecco acclamava Tiscione che fine ha fatto Tiscione cioè per dire noi quell'anno per tenere Tiscione abbiamo lasciato tremolata tanto ma però voglio dire una rondine non fa prima il calcio è semplice i valori ci sono i valori ci sono la Ternana ce l'ha i valori ci sono è arrivato un grande terzino sinistro perché Bruno Martella è uno dei migliori terzini sinistri assolutamente e lo vedremo arriveranno altri giocatori sono convinto che sul mercato arriveranno altri giocatori Gianni facciamo così parliamone tra poco do i risultati al volo chiudiamo e poi dopo ok allora andiamo con i risultati della prima giornata di campionato Forosinone Parma è stato l'anticipo l'open day della prima giornata di Serie B è terminata 2-2 il Perugia è spugnato il campo di Lignano Sabbiatoro battendo 1-0 il Pordenone Cittadella Vicenza sono 1-0 Regina Monza 0-0 Ternana Brescia lo sapete 0-2 Ascoli Cosenza 1-0 Benevento Alessandria 4-3 Cremonese Brescia 3-0 Cremonese Lecce Detto ciò una piccola considerazione la vogliamo fare anche sul pubblico abbiamo estrapolato un po' i dati degli spettatori alla prima giornata di campionato di questa Serie B 2021-2022 c'era la novità appunto del ritorno al pubblico la partita Ternana a Brescia 3.344 spettatori di Terni 15 ospiti quindi 3.359 complessivi è stata la quinta partita più vista di tutte le 10 della Serie B vi lancio anche un assist se ne parleremo se è vero poi che Pisa a spalle è superiore perché dice aspettatori 4.000 circa anche io ieri avrei detto 4.500 circa invece è perché alcuni sono dati reali perché sono stati diffusi dalle società altri vi lancio un assist per dopo poi concludo Regina Monza 5.825 è stata la partita più vista quindi naturalmente ci aspetterà un ambientino assolutamente la città pure è grande va bene sosta pausa box e poi torniamo con l'ultima parte con l'ultima parte RISONANZA MAGNETICA A Terni, via Pacinotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Dal nord Europa, i nuovi sistemi di riscaldamento Buderus per impianti condominali e abitazioni private. Le nuove caldaie a condensazione e le pompe di calore per riscaldare la vostra casa in modo confortevole, economico ed ecologico. Con tre secoli di esperienza nell'innovazione del riscaldamento, Buderus è la scelta professionale per interventi di riqualificazione energetica, oggi anche con ecobonus del 65% e superbonus del 110%. Buderus, i professionisti del riscaldamento del gruppo Bosch, a Terni e Pronto Calor di Brunotti Roberto, in strada di Marattabassa 55. Buderus, i professionisti del riscaldamento del Riscaldamento, in strada di chiara. A Terni e Pronto Calor di Brunotti, a Terni e Pronto Calor di Brunotti, a Terni e Pronto Calor. Stia DSL collega aziende e private ad internet Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio Assistenza efficace e diretta Prezzi contenuti sopra luoghi gratuiti dei tecnici Entra in contatto con il mondo Stia DSL Ultimissima parte di Che Calcio Vuoi la dedichiamo principalmente quasi interamente al mercato poiché siamo nelle battute finali della sessione estiva ricordiamo stiamo registrando ma la Ternana ha ufficializzato è stato depositato il contratto di Bruno Martella che arriva a titolo definitivo dal Brescia Assolutamente sì, il ragazzo è arrivato venerdì ad Acquasparta un ottimo acquisto alle 17.15 ha preso confidenza con i nuovi compagni, con il campo e quindi da No, volevo dire un paio di cose qualcuno dice che a me piace fare polemica invece si può anche essere però a me soprattutto piace dire le cose come stanno l'anno scorso è andato tutto bene diciamo che qualcuno non mi ha riconosciuto ma allora io ti dico dico questo comincio a dire una cosa abbiamo inseguito tutta l'estate anzi forse ad aprile un portiere invece di cercare un centrale difensivo che ci serve come il panno abbiamo preso Sorensen qualcuno dice che l'ha scelto Lucarelli secondo me no ci serve un centrale difensivo e un centrocampista il portiere ci può servire ma non è detto che serva un titolare e non era la priorità quindi sul mercato da questo punto di vista abbiamo sbagliato perché la squadra ha necessità di un difensore centrale esperto forse anche un po' più cattivo ma non perché ce l'ho con Conte anzi l'anno scorso Conte che l'abbiamo sottolineato ha giocato un grande campionato però il ragazzo è un po' acerbo per la Serie B ma non perché non sia bravo ma perché ci serve una malizia diversa ieri Bobben tra l'altro per larghe parti della partita anche lui è stato incerto ma poi nella ripresa si è un pochino ripreso assolutamente ma è invece Conte che è bravo però manca di quella cattiveria di quella malizia che in Serie B allora lui può giocare ma ne serve un altro non mi pare che Lucarelli abbia questa grande fiducia su Sorensen perché ha giocato a Bologna ma come è stato disponibile Conte che è rientrato quindi un difensore centrale serve secondo me serve anche un mediano centrale perché se ne dica perché a centrocampo in qualche partita bisogna giocare un po' sporchi poi prima non l'ho detto ma io l'ho detto ieri l'Aternano un po' pensate di vincere tutte le partite a spasso o giocando bene qualche partita o si vince o si pareggia rubandola giocando sporco e ci servono i mediano perché il mediano poi ti fa comodo nei calci piazzati quando vai in avanti nei calci piazzati quando difendi il mediano strutturato oppure un altro tipo di difensore però Gigi invece noi abbiamo perso tempo e lo sapete perché abbiamo cercato sto portiere disperatamente Gigi avevo stoppato Gianni prima le sue valutazioni di mercato allora sul discorso del centrocampista strutturato noi lo diciamo da due anni e anche il mister è d'accordo perché ha detto che anche seguiamolo in Abruzzo ci sta un portiere sì ci sta vediamo chi arriverà ce ne stanno due tre nomi secondo me dico subito che il centrocampista sarà un giocatore di spessore non sarà una comparsa ma sarà un giocatore molto importante per la Serie B questo sarebbe fondamentale tra l'altro quello ci consentirebbe anche di giocare a due con due interni uno più diciamo regista play scusami c'è un suggerimento della regia non so se lo potete non penso che possa essere Contekstomediano secondo me perché Contek manca di quello che diceva Gigi cioè la capacità comunque di metterci la gamba pesantemente di andare a scontro di cercare il contatto tenere botta quello che si chiama tenere botta lo vedo più da regista difensivo poi certo ci può giocare come l'anno scorso però in Serie B c'è bisogno più di uno a dare alla detacchio una cosa così alla Bisoli alla Bisoli magari ma Bisoli la vedo difficile poi il discorso del terzino Martella sì però su quattro centrali il mister ha detto stiamo a posto però noi abbiamo quattro centrali di fatto più celli che lo possiamo adattare di questi quattro centrali ci abbiamo un'andale che ha diaghi te bravissimo ma da scoprire in Serie B la coppia centrale dello scorso anno e solo Sorensen come rinforzo quindi anche lì me l'aspetto non era convocato oggi è uscita la notizia di Lazzar che girava sui siti ma credo che sia mi pare difficile ma magari perché Lazzar è un votatore ma la differenza i destini ce l'hai ce l'hai allora il discorso è questo dopo devi fare ma devi fare la ponte degli over dopo ne escono vantaggiato fuori perché sono due partite che non viene convocata celli Tommaso celli non lo vede il mister perché ha giocato Salsano o vede troppo Salsano o vede troppo Salsano ma di sicuro celli in questo momento non è né un terzino sinistro con possibilità di giocare perché ci sarà Martella e Salsano se Salsano me lo metti il titolare in coppa in campionato il mister non lo vede ma tu preferiresti il terzino sinistro celli o Salsano allora io mi sbilancio e ti dico per fare il terzino ci metterei celli però io guardo quello che sceglie il mister però dico è un errore questo va sottolineato per lui evidentemente non lo è però ti dico Martella sarà il titolare immagino e Salsano sarà la riserva ma di Lazzar lasciamo stare a quel punto Celli dove trova spazio come centrale allora o il mister lo mette come quinto centrale di difesa oppure non so dove potrà farlo giocare perché come terzo o terzino sinistro mi pare un po' uno spreco a quel punto se arriva tra l'altro un centrocampista over importante bisogna liberare un altro posto quindi da questo punto di vista sul discorso del portiere io invece penso che sono d'accordo su Gianna Rilli cioè che secondo me Gianna Rilli ieri ha dimostrato ma gliel'abbiamo detto anche quando abbiamo intervistato con Lazzarino ma che è stata sciocchessa che non ha giocato ma che è stata una stupitaggine Gianna Rilli la palla quando arriva sui bandoni che è diventato però vedrai che un portiere lo cercheranno il nome che si è fatto che viene ribaduito ormai da divertigioni è Falcone che la viene a fare la riserva però ecco esatto Falcone non penso che scenda in B a fare la riserva anche perché al momento è vice Audero per i movimenti dei portieri Sepe dovrebbe trasferirsi dal Parma alla Sampdoria non è più semplice prendere un portiere under promettente ma tu sei meglio di me che se Audero va via non ha detto che Falcone non possa giocarsi dalle sue carte a fare il primo in Serie A ma visto come sta giocando Gianna Rilli e visto anche non è più semplice non sacrificare un posto over e prendere un under promettente che magari si mette in banchina e sta buona questa è una valutazione che condivido anche io e ci sta l'under forte sempre beh sempre però un altro non ti viene a fare io invece pensavo a quello della Vibonesi sempre è under però non ti viene a fare riserva eh sì giocheranno alla Pari del resto Gianna Rilli ha detto non ha problemi a giocarsela però sul portiere secondo me la gerarchia non è stabilita il portiere comunque è importante ma secondo me non è la cosa più importante più importante è un centrocampista che ti dia la possibilità di giocare a tre che ti dia la possibilità se stai in vantaggio di mettere uno davanti che ti fa schermo che ti dà la possibilità soprattutto nei campi pesanti che arriveranno di andare a giocare sulle seconde palle ma ce l'hanno tutti ieri si è presentato il Brescia Bertagnoli Bisoli Vandeloi che sarà un metro e 87 un metro e 88 cioè ce l'hanno tutti di questo tipo di giocare anche perché in serie C con i palleggiatori gli ha incarti a tutti quello capito in serie B ha incartarlo a tutti specialmente su questi campi chiudiamo con una riflessione giochiamo quindi lo ricordiamo domenica 29 agosto contro la regina alle ore 20 e 30 allo stadio Granillo poiché potremmo trovare un campo molto simile a quello del Liberati ipotizzate un cambio modulo magari un 4-3-1-2 visto con nel secondo tempo contro il Brescia scusate ci può stare se il campo è come Liberati forse converebbe giocare un po' più come posso dire con giocatori strutturati con un altro tipo di gioco con meno fraseggi poi dopo dispiace perché con questo tipo di gioco la nana ha fatto grandi cose però se vai a giocare laggiù il campo è come il nostro giochi in trasferta diciamo che i punti cominciano a far comodo io gioco si potrebbe giocare anche così magari fai giocare sia Pettinari che Donna Rubin ecco una cosa del genere lì c'hai lo svantaggio parliamo di vantaggio e svantaggio lo svantaggio è che abbandonare subito un'idea di gioco che ti ha fatto fare 90 punti lo scorso anno conoscendo la soluzione tampone dicevo solo per la gioca l'ampria però il mister è uno che guarda non soltanto i moduli guarda la capacità di aggressione guarda tante cose ci penserà penso duemila volte prima di farla una cosa del genere perché l'abbiamo visto l'analizzato nel secondo tempo e ragguagliando un po' le due situazioni che potrebbero porsi il vantaggio è quello il vantaggio è che tu puoi dire vado giù con una mediana a tre gioco un calcio più semplice da un certo punto di vista meno anche dispendioso certo però il mister l'ha detto sempre il suo credo è andare a fare la partita su tutti i moduli troveremo poi una squadra che gioca con il 4-3-3 è una squadra della squadra di Alfredo Aglietti ha debuttato Montalto ma c'è Galabino perché probabilmente ce lo ritroveremo però con il Monza la regina ha fatto una scelta un po' diversa la nostra pensiamo possiamo portare a casa a questo punto e se l'ha portata a casa va bene a questo punto chiudiamo oltre a salutarvi ricordo che la nostra trasmissione è visibile martedì alle 22.30 su TRG canale 11 del digitale del Restre oltre naturalmente alla fruizione online su Youtube di On TV speriamo appunto in una pronta rivincita domenica prossima il campionato è così lungo che non dobbiamo assolutamente fasciarci la testa ma guardare con positività e fiducia al prossimo impegno di campionato vediamo sto rigore che ci danno il Reggio Calabria così faremo il collegamento da fuori dell'esterno no non vengo ti ho detto non vengo va bene saluto calorosamente e cordialmente sia Gigi Manini che Gianni Giardinieri mi dispiace che Gigi sarà assente fino a dicembre ma non penso se ci danno un rigore del genere guarda va bene tu e tu stai tranquillo va bene grazie per averci seguito alla prossima volta ve lo ricordo non ci sarò io Tommaso Ferrante di Calcio Ternano ma tornerà Enrico Maggiorini buonasera da tutti grazie a tutti grazie a tutti